L'arrivo della primavera, il risveglio delle formiche dopo la diapausa invernale, probabilmente il momento più atteso di ogni allevatore. Le formiche, rimaste inattive durante i mesi più freddi, iniziano a mostrare i primi segni di vita e di attività. Questo processo di risveglio primaverile avviene gradualmente e dipende dalle temperature esterne. Quando la temperatura supera una determinata soglia, le formiche iniziano ad attivarsi e a muoversi all'interno dell'ornido. In questo periodo, le regine ricominciano a produrre uova, cui larve verranno nutrite dalle operaie che, a loro volta, inizieranno a cercare cibo per tutta la colonia. Un reminder prima che inizi il video. Ragazzi, tra poco ci sarà in Tomodena. Noi ci saremo, con più formiche, con lo staff al completo e con la nostra banca delle regine, da cui potrete attingere, lasciare o scambiare colonie. Avremo anche i nostri gadget. Lo facciamo, come sempre, insieme agli amici di Formicarium. Quindi non pensateci troppo e venite a trovarci. Per gli allevatori, è importante seguire attentamente questo processo di risveglio primaverile, in modo da garantire alle formiche un ambiente adatto alle loro esigenze. Innanzitutto, è necessario evitare di disturbare troppo le colonie in questo periodo delicato, in quanto il loro equilibrio può essere facilmente alterato. Inoltre, è importante fornire alle formiche cibo fresco e acqua pulita, in modo che possano riprendere le loro attività. In sintesi, il risveglio primaverile delle formiche dopo la diapausa invernale è un momento cruciale. Quello di quest'anno è stato un inverno davvero strano. È iniziato piuttosto tardi e non è stato eccessivamente freddo. Se da un lato questo è stato un bene per quanto riguarda le nostre bollette, per le formiche la situazione è leggermente diversa, soprattutto per le formiche allevate in cattività. Dovete sapere che la fase di diapausa è una fase di vitale importanza per questi insetti ed è necessario che nessun allevatore sottovaluti la cosa. La diapausa è l'espediente grazie al quale le formiche possono superare un periodo di condizioni avverse. Nelle zone del pianeta, con clima temperato, la condizione avversa è data dal periodo anvernale. Durante la diapausa, le formiche mantengono un bassissimo metabolismo respiratorio. Cessano totalmente di alimentarsi e di crescere. La diapausa è indotta da fattori esterni ed interni, come ad esempio il fotoperiodismo, la temperatura, le secrezioni ormonali e la disponibilità di cibo. Quindi, la mancanza di luce, le basse temperature, la scarsità di cibo, pronunciano l'arrivo dell'inverno. Le formiche entrano in uno stato di arresto dello sviluppo, caratterizzato dalla mancanza di crescita dei vari stadi. A tal proposito, è bene ricordare che durante la diapausa le larve e le uova non cresceranno, non muteranno allo stadi successivo, ma supereranno lo stato di quiescenza. Le pupe non sopravvivono alla diapausa Con il termine diapausa, si intende definire quello stato di arresto della crescita dovuto a condizioni avverse, che possono generarsi dalle temperature rigide invernali, ma anche dalle temperature estive troppo elevate. In questo caso, si può definire estivazione, quando, a causa dell'eccessivo calore, si crea una mancanza di risorse, come l'acqua o la disponibilità di alimenti, e quando le stesse temperature metterebbero a serio pericolo la vita stessa. Alcune specie potrebbero farne a meno, per altre invece è obbligatoria e fondamentale. Perciò assicurati di fare sempre delle ricerche sulla specie che stai elevando e sulle condizioni climatiche del loro luogo di provenienza. Per semplicità, si può dividere il periodo di diapausa in tre fasi, rallentamento, pausa e ripresa. La fase di rallentamento è molto importante, perché l'abbassamento graduale delle temperature permette alle formiche di produrre glicerolo, sostanza che ne previene il congelamento. Le formiche sono insetti ectotermi e pecillotermi. L'ectotermia è la condizione degli organismi viventi la cui temperatura corporea dipende dall'ambiente esterno. Il suo contrario è chiamato endotermia, ed è il tipo di termoregolazione che vantiamo noi esseri umani. La pecillotermia è la condizione di organismi viventi la cui temperatura corporea varia molto nel tempo. Questo significa che durante caldi estivi la temperatura interna delle formiche è alta e il loro metabolismo è estremamente accelerato, viceversa d'inverno, dove la loro attività invece è ridotta al minimo. Possiamo tranquillamente vedere questa fase di rallentamento come un vero e proprio periodo di riposo, che serve alle colonie per prepararsi alla frenesia che caratterizza la bella stagione. Dunque saltarla non è la migliore delle idee, visto che rischieremo di arrecare un serio danno allo sviluppo delle nostre formiche e che inizieranno la primavera stanche. Voi riuscireste ad affrontare una nuova giornata di lavoro dopo non aver dormito? Per loro è la stessa cosa. Detto questo, va specificato che un bravo allevatore si informa sempre leggendo le schede di allevamento e tiene conto dei periodi e delle temperature riportate, ma senza mai dimenticare che si tratta di indicazioni generiche e non diversi della Bibbia. Ricordate che è importante tenere conto del luogo d'origine della colonia e delle temperature locali. Se la vostra regina non è stata catturata nella zona in cui vivete, sarà compito vostro fornire condizioni quanto più simili possibile al luogo di provenienza. Mentre se la colonia è dei vostri dintorni, vi basterà fornire loro un ambiente tranquillo e al riparo da sbalzi termici. Una diapausa altalenante è dannosa tanto quanto non farla a diapausa. Proprio quest'anno, l'inverno anomalo, in molte parti d'Italia, ha messo in difficoltà molti allevatori nel tentativo di mantenere le temperature costanti adatte al periodo di ibernazione. A conferma di quanto detto, sul nostro gruppo Facebook, abbiamo letto diversi post di allevatori con formiche attive in arena già a gennaio. Ora che siamo a marzo, un risveglio delle formiche è assolutamente auspicabile. Come per la fase di rallentamento, anche la fase di risveglio segue certe regole. È opportuno non far subire degli sbalzi eccessivi di temperatura alle colonie. Non potete toglierle da una temperatura di circa 10 gradi e metterle direttamente su un tappetino riscaldante a 28. Anche per il risveglio, le formiche mettono in atto alcuni processi chimici. Intanto, devono smaltire il glicerolo, la sostanza grazie al quale sono potute sopravvivere alla stagione fredda senza congelarsi. Non solo, ma anche in natura le cose vanno per gradi. Diciamo che all'inizio, le formiche che si risvegliano dal periodo di pausa riescono ancora a vivere delle risorse immagazzinate in autunno. Quindi non hanno un eccessivo bisogno di alimenti. Del resto, anche in natura non troverebbero tantissime risorse. Gli insetti in giro sono ancora pochi e la possibilità di rifornirsi di carboidrati sono ancora abbastanza scarse. Afidi e fiori non sono al massimo della produzione e numericamente sono ancora ridotti. Le colonie che vi mostro in questo video sono le colonie che ho appena riportato a temperatura ambiente. Non si nota molta attività né in arena né all'interno del nido. Ho ripreso a fornire alimenti, in piccole dosi, sia proteine che carboidrati, ma il più delle volte questi vengono quasi totalmente ignorati. Del resto siamo solo alla prima fase del risveglio. Ad una temperatura davvero moderata è mite, ma non sufficiente a che si inneschi il completo risveglio. Queste riprese sono della settimana scorsa e al momento la situazione è leggermente cambiata. Un numero superiore di operaie è in arena alle ricerche di cibo e anche nel nido l'attività è aumentata. Ad esempio, proprio oggi, ho notato un nuovo pacchetto di uova deposto dalla regina di Camponotus vagus. E con questo posso felicemente dire che l'ibernazione è finita e levata in pace. Se il video ti è piaciuto lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video. Grazie per la visione e al prossimo video.